Patrizio Magnaci, è stato un'emozione oggi dare lo shuffle up e il deal di questo torneo, vero? Sì, è stata veramente una forte e una grande emozione, perché un evento di questa portata, onestamente in Italia, si parla parità di Bain, non l'avevo ancora visto. Però anche con Bain più bassi, cioè anche un free roll, voglio dire, farebbe fatica a fare questi numeri. Sì, condivido perfettamente. Sarà perché l'organizzazione offre un target, un livello elevato, vuoi perché comunque sia il casino di campione, voglio dire, è uno dei fiori all'occhiello, insomma, italiano. Unendo queste cose, sicuramente ci sono i presupposti per poter offrire ai giocatori un target di tornei, di prestigio di un certo livello. Allora, la prima giornata ha superato le 465 unità e il Day 1B di norma va, so che tu sei ovviamente esperto anche in termini numerici, di norma va meglio del Day 1A. Normalmente sì, però sai, noi incrociamo sempre le dita, perché è giusto, un pizzico di scaramanzia è giusto che ci sia. Comunque i presupposti ci sono per avere un numero di iscritti domani superiore. Ora, quantificare non te lo so dire, ma sicuramente superiore. Quindi facile pensare che supereremo le 800 unità, non è impossibile pensare che si possano superare le 900, ma perché non si è provato addirittura a arrivare a mille? È un sogno, sarebbe un sogno sia per l'organizzazione, quindi per Andrea Betelli, sarebbe un sogno anche mio, nel mio piccolo. Però non voglio, come dire, non voglio illudermi. Per me comunque avere la possibilità di presenziare un evento di questo genere, dove abbiamo comunque più di 800 giocatori, insomma, no, credo che sia una grossa soddisfazione. Qui avete dovuto chiudere le iscrizioni, non c'erano abbastanza tavoli? Assolutamente sì. Praticamente ci aspettavamo una certa affluenza, eravamo sicuri che avremmo coperto tranquillamente tutti i posti, però fino a questo punto no. Te lo dico con molta sincerità. Non pensavamo e soprattutto non speravamo. Però questo ci ha solamente riempito di gioia e ci inorgoglisce, perché vuol dire che, insomma, stiamo lasciando, fino adesso abbiamo lasciato qualcosa di positivo nei giocatori, insomma. Da professionista un giudizio tecnico in più. Che cos'ha l'IPO 5 in più rispetto all'IPO 4? Jack, tu lo sai che non si finisce mai di imparare, no? Quindi giorno dopo giorno, evento dopo evento, si cerca sempre di ottimizzare, di migliorare, di raddrizzare i tiri su determinate cose e se questo viene fatto con professionalità, con serietà, con impegno, il tempo poi ti dà ragione, no? E quindi credo che questa sia la giusta lettura.